Alla California, We Patrol pensano di avere un aggetto corrotto. Vogliamo che ti infiltri. Davvero? Mitico. Ti mettiamo con un novellino, John Baker. Siamo colleghi. Questo lavoro potrebbe salvare il mio matrimonio. Che ti sei messo? È la mia uniforme. Hai bevuto tre birre di troppo. Io sono uno sbirro duro che va in moto, non ho emozioni. Sei dell'FBI? Sì. Dobbiamo concentrarsi. Mi prendi in giro? Mi agito un po' quando vedo dei pantaloni da yoga. Ancora non sappiamo chi c'è dentro. Lo stiamo inseguendo! Dove siete? Io vado a nord! Ho un ciasciuto invece! Travolo! Almeno avete una pista valida. C'è la testa di un sospettato, è qualcosa. È grave, molto grave. Io devo fare un bagno caldo. Io non ti ci porto. Eri, ti ho salvato la vita. Fattene una ragione. Bene, papà. Sei caduto di faccia sul mio... No, non c'è stato contatto! Potrei giurare di aver sentito il naso, oppure le labbra... No! Ciao ragazzi! Se siete da genere commedia, rimanete ancora un pochino con me, perché parliamo di qualche uscita divertente che potremo vedere nel 2017. Allora, parto col segnalarvi è Dog's Purpose, che da noi uscirà con il titolo dalla parte di Bailey, ed è l'adattamento dell'omonimo best-seller di W. Bruce Cameron. È la storia di Bailey, un simpatico cane che si reincarna diverse volte, acquisendo sempre più intelligenza ed esperienza. Tra avventure commuventi e situazioni divertenti, Bailey ci condurrà in un viaggio incantato alla ricerca del senso della vita, dell'amore e della lealtà. Poi, per quanto riguarda il cinema italiano, invece, torna Smetto quando voglio 2, il seguito ovviamente della frizzante commedia di Sidney Sibiglia, che ebbe molto successo nel 2014, e vedremo cosa combinerà stavolta la banda criminale col più alto tasso di cultura. È confermato il cast del primo film, molto bene, e la data di uscita è il 2 febbraio del 2017. Poi, dal 30 marzo, invece, ci faremo due ghignate anche con Baby Boss, che è un film in animazione che racconta la storia di una famiglia in procinto di accogliere il piccolo nuovo arrivato, un neonato molto particolare, visto che indossa un abito molto elegante, da sartoria, adora il sushi, ha una 24 ore e parla con l'ironia e la voce di un adulto, Alec Baldwin, nell'originale. Il tutto verrà narrato dal punto di vista di Tim, che è un simpatico bimbo di 7 anni. Altra pellicola che in tanti aspettano trepidanti è I Pirati dei Caraibi, la vendetta di Salazar. In questo nuovo capitolo vedremo ancora lo sventurato Capitano Jack Sparrow, alle prese con dei perfidi marinai fantasma, che fuggono dal triangolo del diavolo, guidati dal terrificante Capitano Salazar, e sono decisi ad eliminare tutti i pirati del mare, soprattutto Jack, nelle sale dal 24 maggio. E per finire, visto il grandissimo successo di Botteghino in tutto il mondo del primo capitolo, la 20th Century Fox ha annunciato l'uscita di Kingsman The Golden Circle, sequel del cinecomic Kingsman The Secret Service, ironica spy story con Taron Egerton e Colin Firth. Alla regia tornerà Matthew Vaughn, già regista di Kick-Ass e X-Men, l'inizio tra gli altri. Non sappiamo ancora molto sulla trama, l'unica notizia è che dovrebbe riguardare principalmente il ramo americano dell'agenzia segreta, però sappiamo di sicuro che sarà nelle sale dal 16 giugno. Allora, siete contenti e curiosi di vedere questi film? Fatemi sapere, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e soprattutto attivate le notifiche per essere sempre aggiornatissimi. Ciao a tutti, al prossimo video!